Un altro aspetto importante è lo stadio, sindaco. Ti ricordi l'ultima volta? È un altro tema che ricorre molto. Allora, io l'anno scorso ho avuto modo di incontrare l'imprenditore Pelligra che era venuto a Pescara perché Sebastiani in quell'occasione mi chiamò e mi disse che mi voleva fare incontrare una persona che era interessata ad acquistare la squadra di calcio, voleva sapere qualcosa della città, voleva sapere com'era il rapporto tra la città, la comunità pescarese, l'ente pubblico che gestisce il territorio e la Pescara Calcio. Ovviamente io ho detto che i rapporti erano rapporti ideali, nel senso che il comune di Pescara, la comunità pescarese, sono sempre stati vicino alla squadra, non l'hanno mai trascurata e quindi qualsiasi cosa era alla portata di chi volesse entrare nella compagine societaria. Ho anche detto che c'era un ragionamento che si poteva fare sullo stadio rispettando tutti i parametri anche stabiliti dalla soprintendenza, ma che sia la regione sia il comune erano assolutamente in linea con la volontà di riqualificare uno stadio e di adeguarlo alle necessità che oggi ci sono per le squadre che vogliono viaggiare ad alti livelli. Gli stati devono essere adeguati, devono poter vivere 365 giorni all'anno, devono poter vivere molte ore giornaliere perché così si produce attorno allo stadio un'economia. Tagliamo la testa al toro, io lo dico senza se e senza ma. Per quello che mi riguarda lo stadio può essere adeguato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti, lo stadio può e deve essere adeguato perché io sono convinto che con uno stadio all'altezza la squadra certamente ci potrà guadagnare e ci guadagnerà anche la città. Quindi chiunque dovesse chiedermi qualcosa sullo stadio la risposta è chiara e netta. Noi siamo pronti a ragionare su uno stadio riqualificato perché con uno stadio riqualificato la squadra ha più possibilità di crescere e di raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo, tutti noi tifosi, non soltanto di Pescara ma di tutto l'Abruzzo. Questo è il ragionamento chiaro. Poi tra questo ragionamento e uno stadio riqualificato c'è un percorso da fare e noi per quello che ci riguarda l'aggiavoleremo al massimo questo discorso. Devo dire che anche il Presidente della Regione, appena riconfermato, è assolutamente convinto di questa idea perché ogni volta che ci siamo seduti a un tavolo e ci siamo seduti anche con l'attuale Ministro Abbodi quando era Presidente del Credito Sportivo, ci siamo seduti con la soprintendente, con il Presidente della Pescara Calcio, abbiamo sempre ragionato su un obiettivo da cogliere che era quello di riqualificare lo stadio e di renderlo in linea con le necessità di una squadra che ha grandi ambisioni.